Tante assenze, ben 14 under in campo, divisi equamente tra le due formazioni, un terreno in pessime condizioni di una sfida a salvezza da non fallire. Ne viene fuori una partita decisamente noiosa e senza reti, tra Fidelis e Regina per un punticino che muove la classifica di entrambe le squadre, ma che serve soprattutto agli ospiti. Per Aldo Papagni pesano le assenze di Esposito nel cuore di centrocampo e Croce come terminale offensivo. La scelta, senza modificare il modulo vittorioso a Pagani, ricade su un attacco formato dall'Attanzio e Scaringella con Longo, goliador domenica scorsa, riportato in zona mediana. Modulo speculare per Maurizzi che sceglie invece Bianchimano con Tulissi in avanti e Marino pronto a svariare sulla destra. La Fidelis parte subito meglio e dopo due minuti è Longo a destreggiarsi bene al limite dell'area di rigore prima di calciare a rete, ma la sfera è alta. Tre minuti e ci prova l'Attanzio in solitaria da 20 metri con una conclusione che si spegne sul fondo non di molto. Poi gara molto spezzettata e tanti errori da una parte e dall'altra, sino al ventiquattresimo quando su azione di corner ed una corta respinta dalla difesa Andriesi arriva il tiro di la camera. Tutto solo dal limite, ma la sfera è a lato. Poi solo sbadigli sino allo scadere del primo minuto di recupero quando la regina ha la palla buona con Marino che dopo lo scambio con Bianchimano calcia da destra, ma la palla è a lato. Dagli spogliatoi non torna in campo per la Fidelis un acciaccato Longo. Al suo posto Nadarevic ad agire prevalentemente a destra. Solo al dodicesimo arriva una prima conclusione della regina con la camera che da circa 20 metri prova un tiro velleitario a lato di Molto. Più pericolosa alla Fidelis al ventesimo quando su azione di calcio d'angolo Nadarevic serve a Celli che prova la girata di testa, ma la sfera è a lato di poco. Nulla più sino al trentasettesimo quando la regina ha l'occasionissima per il vantaggio. Il neo entrato sparacielo si ritrova tu per tu con Mauro Antonio, ma il suo pallonetto si spegne sul fondo. La reazione dei padroni di casa arriva al quarantatreesimo quando Nadarevic da sinistra serve per Cappiello che di testa colpisce debolmente. Facile preda di cucchietti, praticamente inoperosi i portieri ed il conseguente 0-0 che manda negli spogliatoi tra diversi mugugni le due squadre. Un punto che per la Fidelis significa un altro piccolo passettino verso la salvezza.